Una nuova forma, dei nuovi colori e soprattutto una connessione super veloce. Con il tradizionale Keynote da copertino, attesissimo dagli amanti del mondo Apple, la di Tim Cook ha svelato il nuovo iPhone 12. Sono in tutto quattro i modelli della gamma dello smartphone di nuova generazione. Si va dal più piccolo, il mini, fino allo standard e a due versioni Pro. La più grande novità l'ha annunciata direttamente Tim Cook. Oggi portiamo l'iPhone nel 5G, è un grande momento per tutti noi e siamo davvero entusiasti. Il 5G porterà i download a un nuovo livello di performance, un'altissima qualità di video streaming, giochi più reattivi, una interattività real time e molto altro ancora. Vesta è il nome della squadra che rivoluzionerà il sistema calcio. Attualmente iscritta alla terza categoria, il Tim in meno di quattro anni punta alle leghe professionistiche. Riccardo Carnevale, presidente Vesta Calcio. Il Vesta è una ventrata di innovazione nello sport più bello del mondo. Rappresento un gruppo di imprenditori millennials che ha deciso di fondare una squadra di calcio composta da giovani atleti con un innesto di giocatori professionisti e portare al suo interno tutte le innovazioni con cui veniamo a contatto. Blockchain, intelligenza artificiale, IoT, smart device, realtà virtuale aumentata e tutte quelle possibilità che incontriamo ogni giorno facendo il nostro lavoro. Eccezionale scoperta scientifica della sonda spaziale Cheops dell'ESA, missione a forte partecipazione italiana, che ha scovato un sistema planetario che ospita uno dei pianeti extrasolari più caldi ed estremi finora conosciuti, denominato WASP-189b. Mario Salati, program manager dell'Agenzia Spaziale Italiana per la strumentazione italiana a bordo della missione. Cheops ha caratterizzato un sistema planetario per molti versi straordinario. Una stella accompagnata da un giove caldo che raggiunge alla superficie la temperatura più alta mai registrata finora, circa 3200 gradi.